Io sono Alberto Marzoni, presidente del Velo Club. Siamo oggi qui riuniti per la presentazione delle quattro categorie della società. Le quattro categorie sono formate da giovanissimi, esordienti, allievi e io ne ho adesso. Oggi sarà un giorno particolare perché si metterà in mostra di sponso, tutti i lavoratori sono uniti a questa società e il progetto nostro è quello di organizzare delle gare e nello stesso tempo di aprire una pista che gli sarà da dare ancora il nome perché siamo nelle fasi iniziali, però sarà quella che ci darà la possibilità di ampliare il gruppo perché verrà fatto un centro giovane, avviamento diciamo alla bicicletta. Questo è l'intento della società per poter proseguire in tutte e quattro categorie e dare lustro sia a Empoli e a tutto il contorno di Avane e periferia. Le categorie come ho detto prima sono quattro, la prima giovanissimi che va da sette a dodici anni, maschi e femmine, la seconda sono esordienti che va da tredici a quattordici e è composta da tre ragazzi, la terza categoria sono addievi che va a quindici a sedici e è composta da due ragazzi, poi la quarta categoria sono juniores, è composta da quattordici ragazzi e va da dici a sette a diciotto. Questo è il raggruppamento, comunque siamo sempre disponibili a ampliare le file diciamo di tutte e quattro le categorie e l'intento che la società è quello di allargarsi e di far conoscere più possibile la bicicletta nel territorio iponesico.